Il cimitero di Farello necessita di urgenti interventi di manutenzione. A ribadirlo, a distanza di un mese, il consigliere Paola Giudice, che già a novembre aveva segnalato il problema, chiedendo risposte all'amministrazione. Le piogge degli ultimi giorni hanno reso l'accesso a un acquitrino, mentre nulla è stato ancora fatto per gli edifici che ospitano le lapidi dei defunti. Inaccessibili anch'essi in più punti a causa dell'acqua che entrando dal tetto ricopre il pavimento interno, anche a distanza di diverse ore. Una società civile si basa anche sul rispetto nei confronti dei nostri cari defunti e dei vivi che vanno a fargli visita. Purtroppo dopo un mese sono stata costretta a intervenire nuovamente sulla situazione che definire fatiscente è poco di Farello. Una situazione poco dignitosa, come ho detto più volte, sia per i morti che vi risiedono, sia per i vivi che spesso si trovano nell'impossibilità di andare a trovare i propri cari quando e come vogliono. Non soltanto durante le festività non era degnamente praticabile, perché abbiamo visto quello che è successo anche nel parcheggio, ma tutt'oggi, perché non esistono solo le festività. I cimiteri devono essere praticabili tutto l'anno, per chi vuole. Il maltempo e condizioni fisiologiche è normale nella stagione invernale, ma è necessario intervenire con una programmazione dei lavori di breve e lungo periodo. Quello che dico all'amministrazione è che esiste una programmazione, questo l'ho sempre detto, di breve e lungo periodo, quindi se si vuole intervenire nell'immediato a Farello, per renderlo praticabile intanto, cercando di ovviare alle mancanze che ci sono, e poi cercare di intervenire con interventi ancora più strutturali del cimitero, che è assolutamente in questo momento poco dignitoso. Anche lo svuotamento dei contenitori per i rifiuti andrebbe attenzionato con regolarità, mentre i rubinetti sono tuttora secco, con i conseguenti e inevitabili disagi per i cittadini che si recano a trovare i loro cari defunti. Che lo porti in Consiglio Comunale, se è necessario dare l'apporto del Consiglio come proposta, e che intervenga l'amministrazione direttamente con l'assessore al ramo, ma che si faccia qualcosa per rendere un territorio decente, perché stiamo parlando appunto della decenza, non si sta chiedendo nulla di straordinario.